Amore a Taiwan Sfoglia tra le pagine colme di caratteri del voluminoso dizionario Padre Felice per farci vedere come si compone l'ideogramma della parola amore una costante della sua vita che lo ha portato ad essere missionario per 47 anni a Taiwan La mia vocazione di missionario è nata sempre dall'idea di cercare di fare la cosa meglio possibile questa mia mamma mi ha sempre detto quando fai una cosa cerca di fare la migliore cosa e nel miglior modo E il miglior modo per Padre Felice è stato dedicare la sua vita agli altri a più di 15.000 chilometri da casa Era il 1971 quando è partito per Taiwan un lungo viaggio che lo ha portato anche tra gli aborigini del Vietnam dove è stato parroco per ben 8 anni In tutto a Taiwan ho fatto 47 anni Attualmente 47 anni è anche abbastanza lungo il tempo ho avuto esperienza di parroco anche un'altra parrocchia Poi direttore amministrativo di un ospedale abbastanza grande, circa 700 posti letto di cui ho fatto la raccolta fondi per un nuovo blocco mi ricordo che allora ho chiamato i cantanti dall'Italia, la gasdia eccetera eccetera Parroco poi alle isole Pescadores gruppo di isole tra Taiwan e la Cina vice direttore di ospedali all'Otung e responsabile di una scuola infermieristica che conta quasi 3.000 allieve Sono solo alcuni degli incarichi che hanno visto impegnato Padre Felice nei suoi anni oltreoceano Questa forza di coraggio l'ho avuta perché è entusiasta, è entusiasmo come il mio principio base è questo quando mi danno un impegno quella cosa diventa per me l'interesse Un interesse che lo spinge a reinventarsi ogni giorno per i pazienti che assiste e a cui fa compagnia all'ospedale Caffoncello dove dal 2018 è cappellano Un disegno diverso ogni due giorni per distinguersi agli etari malati che assiste nel reparto di dialisi Il presepe all'entrata dell'ospedale è un pensiero scritto per ogni persona nel giorno del suo onomastico E nonostante l'impegno al Caffoncello Padre Felice desiderava tornare nei luoghi che ha vissuto visitando le opere dove ha svolto la sua attività Quando sono partito e la prima tappa naturalmente era a Taiwan perché ho fatto 47 anni lì e quindi la gente mi aspettava, sapevano e quando naturalmente mi portano ancora la mascherina in chiesa e quando in chiesa ho tirato giù la mascherina in prima della messa è stata una gioia un po' comune quindi rivedere tutti i miei posti, dove sono stato, le famiglie con cui ho collaborato mi hanno aiutato, è stata veramente una cosa molto... il problema era di dire no a chi mi invitava alla cena a pranzo perché erano tantissimi